Capitolo 16. Una partita a Mahjong. Quella sera avevamo invitato a casa un paio di persone per una partita a Mahjong. Si tratta di un gioco molto semplice e popolarissimo a King's Abbot. Gli ospiti arrivano in impermeabile e sopra scarpe di gomma dopo cena. Si prende il caffè e, più tardi, il tè accompagnato da torte e tartine. Quella sera erano nostri ospiti la signora Gannett e il colonnello Carter, che abita vicino alla chiesa. Ingrediente fondamentale di queste riunioni sono i pettegolezzi, che a volte interferiscono seriamente con l'andamento della partita. Un tempo si giocava a bridge, un bridge tutto chiacchiere della peggior specie. Oggi troviamo il Mahjong molto più rilassante. Si evitano domande stizzite, tipo, perché diavolo non hai giocato quella carta? E, pur esprimendo critiche con franchezza, lo spirito non è mai acrimonioso. Fa un bel fresco stasera, eh, Shepard? Disse il colonnello Carter, con la schiena rivolta al fuoco. Caroline aveva condotto in camera sua la signora Gannett per aiutarla a liberarsi dagli scialli nei quali si era imbacuccata. Mi ricorda certi valichi dell'Afghanistan. Davvero? Rispose cortesemente. Un autentico mistero, questa storia del povero Croyd, continua il colonnello, accettando una tazza di caffè. Puzza di bruciato da un miglio. «Resti fra noi, Shepard, ma ho sentito parlare di ricatto». Il colonnello mi rivolse un'occhiata di quelle che potremmo definire da uomo di mondo a uomo di mondo. «C'è di mezzo una donna», continuò. «Si fidi, c'è di mezzo una donna». In quel momento ci raggiunsero Caroline e la signora Gannett, che beve il caffè, mentre mia sorella tirava fuori la scatola di Mahjong rovesciava le tessere sul tavolo. «Mischiare le tessere!» esclamò allegro il colonnello. «Proprio così, mischiare le tessere! Ecco quello che dicevamo allo Shanghai Club». È opinione mia e di Caroline che il colonnello Carter non solo non sia mai entrato nello Shanghai Club in vita sua, ma che non si sia mai spinto più a oriente dell'India, dove si destreggiava fra scatolette di carne e barattoli di conserva di mele e prugne durante la Grande Guerra. Ma il colonnello ha sempre il suo piglio militaresco e qui a King's Abbot mostriamo una certa indulgenza per le piccole fissazioni della gente. «Vogliamo cominciare?» disse Caroline. Ci mettemmo a sedere intorno al tavolo. Per cinque minuti regnò il più completo silenzio, dovuto alla cerrima e inconfessata competitività fra i giocatori che tentavano di costruire il proprio muro più rapidamente degli altri. «Comincia tu, James!» disse infine Caroline. «Sei il vento dell'est!» Scartai una tessera. Facemmo un paio di giri, interrotti da battute monotone come «tre bambù, due cerchi, Pung!» e dai frequenti, come non detto, della signorina Gannett, dovuti alla sua abitudine di attribuirsi con troppa fretta tessere alle quali non aveva diritto. «Ho visto Flora Croyd stamattina», disse la signora Gannett. «Pung! No, come non detto, mi sono sbagliata!» «Quattro cerchi!» disse Caroline. «E dove l'ha vista?» «Lei però non ha visto me», disse la signorina Gannett con quel micidiale tono allusivo che si ascolta solo nei piccoli villaggi. «Ah!» fece Caroline con interesse. «Ciove!» «Credo che oggigiorno sia più corretto dire chi, invece di Chou?» osservò la signorina Gannett, momentaneamente distratta. «Sciocchezze!» ribatte Caroline. «Io ho sempre detto Chou!» «Allo Shanghai Club!» dichiarò il colonnello Carter. «Si dice Chou!» La signorina Gannett ha muto lì, annichilita. «Cosa stava dicendo di Flora Croyd?» domandò Caroline dopo qualche istante di gioco. «Era in compagnia di qualcuno?» «E come?» rispose la signora Gannett. Gli occhi delle due donne si incontrarono e parvero scambiarsi informazioni. «Davvero?» disse Caroline con interesse. «È sicura?» «Beh, non mi meraviglia affatto!» «Aspettiamo che lei scarti, signorina Caroline», riprese il colonnello. A volte gli piaceva fare il burbero concentrato sulla partita e del tutto indifferente ai pettegolezzi, ma nessuno lo beve. «Se vuole il mio parere», ripese la signora Gannett, «è un bambù quello che ha scartato cara». «Oh, no! Adesso lo vedo, era un cerchio. Come dicevo, se vuole il mio parere, Flora è stata incredibilmente fortunata». «Sì, incredibilmente fortunata». «Come mai, signora Gannett?» domandò al colonnello. «Con quel drago verde faccio Pung». «Come mai pensa che la signorina Flora sia stata fortunata?» «So bene che è una ragazza molto affascinante e via dicendo». «Sarò anche inesperta in fatto di crimine», rispose la signora Gannett, «con l'aria di chissà tutto quando c'è da sapere, ma posso dirle una cosa». «La prima domanda, che si fa sempre, è chi è stata l'ultima persona a vedere viva la vittima?» E su questa persona si concentrano i sospetti. «Ora, Flora Cloyd è l'ultima persona ad aver visto lo zio. Le cose potrebbero mettersi male, per lei molto male. La mia opinione, per quel che vale, è che Ralph Patton non si faccia vedere per causa sua, per sviare i sospetti dei quali potrebbe essere oggetto». «Vi andiamo», protestai blandamente. «Non vorrà insinuare che una giovane come Flora Cloyd sarebbe capace di pugnalare lo zio a sangue freddo». «Beh, non saprei», disse la signora Gannett. «Ho appena letto un libro della biblioteca sul mondo della malavita di Parigi, e vi si dice che alcune delle peggiori delinquenti sono fanciulle con il viso da angelo». «Questo succede in Francia», si affrettò a ribattere Caroline. «Proprio così», disse il colonnello. «E ora sentite una storia molto curiosa che circolava nei bazar indiani». La storia del colonnello si rivelò interminabile e di scarsissimo interesse. Come poteva una vicenda indiana di molti anni prima competere con quanto era successo a King Sabot due giorni prima? Fu Caroline a costringere il colonnello a interrompersi, grazie al cielo facendo Mahjong. Dopo il piccolo e spiacevole diverbio provocato come sempre dalle mie correzioni ai conteggi di Caroline, la cui aritmetica è piuttosto zoppicante, cominciammo una nuova mano. «Il vento dell'est passa», disse Caroline. «Mi sono fatta un'idea personale su Ralph Patton. Tre caratteri, ma almeno per ora la tengo per me». «Davvero?», disse la signorina Gannett. «Ciù, volevo dire Pung». «Sì», rispose Caroline con fermezza. «È andata bene con gli stivali?», domandò la signorina Gannett. «Il fatto che fossero neri, voglio dire». «Benissimo», rispose Caroline. «Perché lo voleva sapere?», domandò la signorina Gannett. Caroline arricciò le labbra e scrollò la testa, dando l'impressione di conoscere perfettamente la risposta. «Pung», disse la signorina Gannett. «No, come non detto. Sono sicura che il dottore, che è sempre in compagnia di Monsieur Poirot, ne conosce tutti i segreti». «Tutt'altro», obiettai. «James è così modesto!», esclamò Caroline. «Ah, un Kong nascosto!». Il colonnello si lasciò sfuggire un fischio. Per un attimo i pettegolezzi furono lasciati da parte. «Ah, anche il vento», osservò. «E' come se non bastasse due punghe di draghi. Bisogna stare in guardia. La signorina Caroline ha una mano formidabile». Giocammo per qualche minuto senza indulgere a chiacchiere rilevanti. «Questo Monsieur Poirot», riprese poi il colonnello Carter, «è proprio quel grande investigatore che dicono?». «Il più grande del mondo», rispose Caroline solenne, «si è trasferito qui in incognito per non dare dell'occhio». «Ciao», disse la signorina Gannett, «un avvenimento straordinario per il nostro piccolo villaggio, no?». «A proposito, Clara, la mia cameriera, la conoscete, è grande amica di Elsie, la cameriera di Ferli. E indovinate cosa le ha detto Elsie? Che hanno rubato un sacco di soldi e secondo lei, cioè secondo Elsie, sembra ci sia di mezzo l'altra cameriera. Andrà via a fine mese di notte e non fa che piangere. Se volete il mio parere, quella ragazza è in combutta con una banda di malfattori. È sempre stata un tipo strano. Non ha mai fatto amicizia con le altre ragazze di queste parti. Nelle giornate libere se ne va per i fatti suoi. Davvero inconsueto, questo direi, persino sospetto. Una volta l'ho invitata a una delle nostre serate per amiche, ma lei ha rifiutato. E quando le ho fatto qualche domanda sulla sua famiglia e così via, beh, mi ha risposto a modo a dir poco impertinente. L'apparenza è rispettosa, ma mi ha ridotto al silenzio con una sfacciataggine che non vi dico. La signorina Gannett si fermò per riprendere fiato e il colonnello, che provava il più profondo disinteresse per le vicende del personale di servizio, osservò che allo Shanghai Club il gioco rapido era alla regola. Provamo anche noi una mano rapida. «Qui la signorina Russell», riprese Caroline, «venerdì mattina è venuta qui fingendo di volersi fare visitare da James. Secondo me voleva sapere dove si tengono i veleni. Cinque caratteri!» «Oh!» disse la signorina Gannett. «Che idea bizzarra! È sicura?» «A proposito di veleni», disse il colonnello. «Ehm, cosa? Non ho scartato! Oh, otto bambù!» «Majong!» annunciò la signorina Gannett. Caroline era visibilmente indispettita. «Un drago rosso», disse con rammarico, «e avrei avuto una mano con tre doppie». «Io avevo due draghi rossi fin dal principio», dichiarai. «Questo è proprio da te, James», mi rimproverò Caroline. «Tu non capisci lo spirito del gioco!» «Io ero convinto di aver giocato con molta astuzia. Se Caroline avesse fatto Mahjong, avrei dovuto pagarle una bella somma. Invece il Mahjong della signora Gannett era dei più modesti, come Caroline non mancò di farle notare. Il vento dell'est passò e cominciammo una nuova mano in silenzio. «Ecco cosa stavo per dirvi poco fa», riprese Caroline. «Sì», la incoraggiò la signora Gannett. «La mia idea su Ralph Patton, intendo». «Sì, cara», ripeté la signora Gannett, ancora più incoraggiante. «Ciò, fare ciò così presto è segno di debolezza», osservò Caroline severa. «Meglio mirare a una mano più sostanziosa». «Lo so», ammise la signora Gannett. «Stava dicendo la sua idea su Ralph Patton». «Sì, ebbene, credo di aver capito dove si trova». Ci fermamo tutti a guardarla, sgranando gli occhi. «Tutto questo è molto interessante, signora Caroline», disse il colonnello Carter. «Ed è tutta farina del suo sacco, vero?» «Beh, non esattamente. Ora vi spiego. Avete presente la grande mappa della contea che abbiamo nell'atrio?» Rispondemmo di sì. L'altro giorno, mentre usciva di qua, Monsier Poirot si è fermato a guardarla ha detto qualcosa, che non ricordo le parole precise, ma riguardava il fatto che «Cranchester è l'unica grande città nei dintorni», il che è verissimo, naturalmente, ma quando se n'è andato ho capito al volo. Che cosa? Il significato delle sue parole. Ovviamente Ralph si trova a «Cranchester». In quel momento rovesciai l'astuccio contenente le mie tessere. Mia sorella si affrettò a riproverarmi per la mia goffagine, ma lo fece distrattamente. Ci teneva troppo a esporre la sua teoria. «Cranchester, signorina Caroline», disse il colonnello Carter, «impossibile che si trovi a Cranchester, troppo vicino». «Appunto», esclamò Caroline trionfale, «ormai è evidente che non può essere partito in treno, quindi deve aver camminato fino a Cranchester, e sono convinta che sia ancora lì. Nessuno penserebbe mai di andare a cercarlo così vicino». Solleva svariate obiezioni alla sua teoria, ma quando si metteva in testa qualcosa, Caroline non dava più retta a nessuno. «E secondo lei, Monsieur Poirot, ha la stessa idea?», chiese meditabonda alla signorina Gannet. «Sarà una coincidenza, ma nel pomeriggio, mentre passeggiavo sulla strada per Cranchester, l'ho visto a bordo di un'automobile che veniva da quella direzione. Ci guardammo tutti». «Oh cielo!», esclamò improvvisamente la signorina Gannet. «Ho fatto Mahjong da chissà quanto tempo e non me ne ero accorta». Caroline si vide costretta ad abbandonare le sue fantasie. Ne approfittò per far osservare alla signorina Gannet che non valeva la pena di fare Mahjong con una mano di serie miste e troppi chou. La signorina Gannet l'ascoltò impassibile e raccolse le sue fisce. «Sì, cara, capisco ciò che intende», riprese, «ma dipende tutto dal tipo di mano che ci si trova dal principio, non crede?». «Non avrà mai una bella mano se non ci si mette d'impegno», insistette Caroline. «Beh, ognuno gioca a modo proprio, non le pare?», disse la signorina Gannet. Poi controllò le sue fisce. «Dopotutto al momento sono in testa». Caroline, che invece arrancava nelle retrovie, tacque. Il vento dell'est passò e riprendemmo la partita. Annie entrò con il tè. Caroline e la Gannet erano un poco indispettite, come capita spesso nel corso delle nostre allegre riunioni serali. «Le dispiacerebbe darsi una mossa cara?», disse Caroline, mentre la signora Gannet esitava sulla testa da scartare. «I cinesi sono così rapidi a posare le tessere che sembra di sentire gli uccellini che zampettano». «Per qualche minuto giocammo come i cinesi». «Shepard, lei non ci ha raccontato praticamente nulla», disse il colonnello Carter con vivacità. «Che furbacchione! Lo sappiamo tutti che è in combutta con il grande investigatore, eppure non si lascia sfuggire una parola». «James è un tipo incredibile», dichiarò Caroline. «Non riesce a lasciarsi sfuggire nemmeno alla più piccola informazione». Mi guardò con aria contrariata. «Le assicuro che non so nulla», risposi. «Puoro tiene per sé le sue opinioni». «E fa bene a non tradirsi», esclamò il colonnello con una risatina a chioccia. «Davvero formidabili questi investigatori stranieri. Conoscono ogni trucco del mestiere». «Pung», disse la signora Gannet in tono di pagato trionfo, «e Mahjong». La situazione era sempre più tesa. Fu la stizza nei confronti della signora Gannet, che aveva realizzato il terzo Mahjong consecutivo, a far dire a Caroline mentre ricostruivamo i nostri muri. «Quanto sei noioso, James! Te ne stai lì come uno stoccafisso e non apri la bocca». «Ma mia cara», protestai, «io non ho nulla da dire. Nulla di quanto pensi, almeno». «Figuriamoci», ribattei Caroline, mettendo in ordine le sue tessere. «Qualcosa era interessante e lo devi sapere». Per un momento non risposi. Ero annichilito ed euforico. Avevo letto che esisteva una figura chiamata Vittoria Perfetta, cioè un Mahjong formato dalle tessere iniziali. Mai avrei immaginato di vincere così. Cercando di dominare il senso di trionfo, deposi sul tavolo le tessere a faccia in su. «Come dicono allo Shanghai Club», annunciai. «Ting Ho! Vittoria Perfetta!» Il colonnello aveva gli occhi fuori dalle orbite. «Buondio!» esclamò. «Davvero straordinario! Mai visto nulla di simile!» Pungolato da Caroline, reso incosciente dal trionfo, sputai il rospo. «A proposito di informazioni interessanti, che ne dite di una fede d'oro con una data e le parole «da R punto» incise all'interno?» Tralascio i dettagli della scena che seguì. Fui costretto a rivelare il punto esatto in cui il tesoro era stato trovato e anche la data. «Il 13 marzo», osservò Caroline. «Proprio sei mesi fa!» Dalla babele di congetture e supposizioni, una più concitata dell'altra, emersero tre teorie. Uno, quella del colonnello Carter, che Ralph e Flora si erano sposati in segreto. La prima soluzione è la più semplice. Due, quella della signorina Gannett, che Roger Acroyd e la signora Ferras si erano sposati in segreto. Tre, quella di mia sorella, che Roger Acroyd aveva sposato la governante, la signorina Russell. Una quarta teoria, o forse una super teoria, fu proposta da Caroline più tardi, mentre salivamo per andare a letto. «Ascoltami bene», esclamò all'improvviso. «Non mi meraviglierei affatto se Flora e Geoffrey Raymond si fossero sposati. Se ci fosse l'anello, richierebbe le parole «da G punto», non «da R punto», lo obiettai. «Non si sa mai. Certe ragazze hanno l'abitudine di chiamare gli uomini per cognome. Del resto, hai sentito cosa ha detto la signora Gannett stasera a proposito dei maneggi di Flora?» A onor del vero, non avevo sentito nulla di simile da parte della signora Gannett, ma Caroline è un asso a cogliere i sottintesi. «E perché non Hector Blunt?» insinuai. «Se c'è qualcuno, sciocchezze!» ribatte Caroline. «È ovvio che l'ammira. Magari ne è perfino innamorato. Ma stanne certo, nessuna ragazza si innamora di un uomo abbastanza vecchio da poter essere suo padre quando c'è un giovane avvenente segretario che gira per casa. Forse sta incoraggiando il maggiore Blunt per servirsene come paravento. Le ragazze sono piene di astuzie. Ma c'è una cosa che devo dirti, James Shepard. Flora Croyd se ne infischia, di Ralph Patton. Se ne è sempre infischiata. Fidati! Mi fidai umilmente». Grazie a tutti. Grazie a tutti.